Ciao ragazzi, questa è Miss Matilda Blog e questa sera qui a Super Sony la mia special guest sono i Daddy's Groove. Eccoci, sono con i Daddy's Groove Gianni Romano, Carlo Griego. Vorrei anche salutare Peppe Fogliero che purtroppo non è qui ma so che è a Napoli e sta producendo. Qualche anticipazione della prossima release vostra? Abbiamo in cantiere un bel po' di cose, una collaborazione con Congo Rock in primis che come tu sai è un altro italiano che sta facendo molto bene. Un'altra collaborazione dopo il remix fatto per Benny Benassi e John Legend con Benny Benassi. Un nostro nuovo singolo che ancora non abbiamo deciso quale sarà, queste sono le tre cose principali. Ragazzi voi siete di Napoli, ma dov'è che abitate? Proprio a Napoli, Napoli Centro. E come nascono i Daddy's Groove? Cinque anni fa, o sei circa, ormai ci siamo anche dimenticati, noi producevamo separatamente ma ci conoscevamo, eravamo amici, chi faceva musica techno, chi musica house eccetera. Abbiamo deciso di unire le forze per fare un progetto più forte, più solido e anche per stare insieme, per confrontarci di più e quindi nascono i Daddy's Groove così. Ragazzi voi avete realizzato un remix per artisti di fama internazionale, ricordiamo Kai Minogue, Dick Englesiag, in tantissimi artisti tra cui i Swedish House Mafia. Il vostro remix Leave the Wall Behind vi ha sicuramente cambiato un po' la vita, no? Diciamo che è stato il primo remix che ci ha permesso innanzitutto di conoscere personalmente Axwell e iniziare a lavorare con Axwell, perché dopo Leave the Wall Behind abbiamo fatto Notting But Love con lui, abbiamo fatto Broken Fitch insieme a lui, altre collaborazioni con loro e oltre a questo Leave the Wall Behind è stato il remix che ci ha messo in contatto con David Guetta. Infatti voi non avete soltanto preso d'occhio il crono svedese dei Swedish House Mafia, ma bensì anche quello francese, quello di David Guetta. Come è nata questa collaborazione? So che lui vi ha scelto per l'album Nothing But The Beat. Sì, è nata come ti dicevo per caso, eravamo come di solito si fa, sai, quando si inizi, eravamo al Faccial, al Facchimion Famous, quella sera era una serata dove c'era anche Sebastiano in grosso, cinque minuti prima che noi vedevamo David, lui si incontrò con Sebastiano e chiese il contatto per mettersi in contatto con noi. Noi lo incontrammo sulle scale, sai, dandogli il classico CD, lui ci chiama... Questo demo? Sì, ci chiama praticamente il console e ci spiega che cinque minuti prima... Ma mi chiamava una mail? Come era? No, no, ci prese proprio dal braccio e stavamo proprio sulle scale, non so se tu conosci il pacciare, ci sono le scale che portano giù in console. Sì. Ci fece scendere giù e lì da lì ci chiese... Il contatto ci disse che due minuti prima aveva chiesto a Sebastiano che ci voleva incontrare, sai quando sei al posto giusto, al momento giusto. E quindi da lì poi è cominciata questa sorta di email, contatti eccetera, poi Carlo è andato a Miami e si è rincontrato con lui, abbiamo fatto il primo remix per lui del disco di Floraida e Nicki Minaj, se non sbaglio, e da lì poi abbiamo cominciato a lavorare su tutto l'album, abbiamo fatto nove dischi nell'album di David. So che David Guetta mi risulta che parli bene l'italiano, e voi il vostro francese? No, 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 abbiamo fatto il contrario, abbiamo insegnato a lui a parlare italiano, anche un po' il napoletano. Anche il tipo? Quindi perciò parla italiano, ma con che parliamo in inglese? Ma com'è David Guetta? Una persona normale, una persona normale, credo che sia questa la tua forza, una persona normalissima, una persona che ti mette proprio al tuo agio, che ci fa vivere, oggi sono passati ormai tre anni che lavoriamo con lui, e veramente ci sentiamo una famiglia insieme a lui, Giorgio che è uno dei suoi produttori, Niki Romero, lo stesso progetto, è veramente sentirsi in famiglia con loro. Insomma, avete partecipato al nuovo album di David Guetta, avete poi suonato nei suoi parti, ha fatto un rework del vostro pezzo, insomma i prossimi progetti futuri quelli saranno? Abbiamo anche fatto un singolo con lui, che sta nell'album, insieme a lui e all'Enerco. I progetti, niente, come ti ha detto Gianni, noi lavoriamo insieme ormai, facciamo un po' tutto insieme e continueremo a farlo, perché ci troviamo bene, siamo contenti di lavorare con lui, quindi i progetti verranno, stiamo lavorando a tante cose veramente, veramente grandi, purtroppo non ti posso dire niente, però vedrete, ne sentirete, sì, sì. Lui già ha fatto tante cose veramente grosse, ma adesso stanno arrivando delle novità importanti. E com'è stato aprire le serate Pac-Man Famous? Ma guarda, piuttosto che parlarti di Pac-Man Famous, ti dico che l'esperienza più bella l'abbiamo passata facendo l'apertura di tanti concerti di David, specialmente in Francia, dove noi lo definiamo il Maradona francese, perché è veramente una cosa incredibile, pensa abbiamo fatto una serata al Festival di Poupé, c'erano 27.000 persone. Complimenti. Solo per David, e non ti dico, è stato veramente Bangkok, Hong Kong, abbiamo fatto Dubai, a due date in Italia, Torino e l'altra via Reggio, e altro detto queste qua in Francia, abbiamo fatto Nancy, Marsiglia, moltissime date, veramente, veramente, quella è stata un'esperienza molto divertente. Ragazzi, te ne ho orgoglio, tutto italiano, certamelo dire. Complimenti, loro sono i Daddy's Groove, Beppe Fogliero, un bacio, un saluto, e ti ringrazio personalmente, ci vediamo presto, questa è Miss Matilda Blog Channel. Ciao.